Noi vogliamo una nuova organizzazione della Polizia Penitenziaria, un'organizzazione che ci garantisca di entrare in servizio e di uscire in servizio sani e salvi. Ormai un bollettino di guerra, quello che proviene dagli istituti penitenziari, tanto da creare una situazione di disagio e di malcontento della Polizia Penitenziaria, motivo che ha spinto la Confederazione Sindacati Penitenziari di scenare un sit-in di protesta dinanzi ai provveditorati d'Italia a Catanzaro per manifestare il proprio dissenso all'attuale gestione del corpo. Siamo oggi qui a manifestare per i nostri diritti, a manifestare contro le violenze che subiamo tutti i giorni, a manifestare a un'amministrazione che non ci considera, a un'amministrazione che pensa di poter sostituire la Polizia Penitenziaria con ore di straordinario, non dandoci dignità e non dandoci neanche modo e un'organizzazione tale da poter lavorare e di uscire fuori da un servizio senza essere aggrediti, senza subire aggressioni verbali, senza subire vessazioni.